Nathan, siamo nati per questo. Tu e io, insieme, eravamo destinati a qualcosa di grande. Agli uomini retti, il paradiso eterno. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro, ok? È nato per questo. Oh, oh, merda! Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui. Peccato non essere dalla stessa parte. Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Reggi ti, Nathan! Dov'è il manufatto? Attento! Via, via! Avevo fatto la promessa di smettere con questa vita. Da quanto tempo lo inseguiamo? Da un sacco. Esatto. Solo tu e io. Senza offesa per lui. Ma non capiscono. Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Attento! Senti, Nate. Solo per questa volta ti propongo un'offerta. Tu molli tutto. Torni a casa. Vivi la tua vita. Allora, facciamo finita. Qui è ora. Ci sarà un altro modo. Qui ho bisogno di te. Sam! Ti sei mai chiesto come sarebbe andata se avessi fatto altre scelte? No. Preferisco ciò che abbiamo.